Signori cari, salve! Spegniamo la luce che serve in questo momento comunque, che è ancora giorno, questa luce serve come zonzia al centrocampo della Roma. E parliamo della splendida stagione dell'Atalanta, ovviamente non possiamo parlare tutte e 38 le partite, però voglio parlare un po' così, generale dell'Atalanta che merita comunque in comi da parte di tutta l'Italia, dell'Italia tifosa, imparziale, eccetera, eccetera. Perché una realtà come quella bergamasca non può non essere esaltata, visto comunque quello che ha raggiunto. Ha raggiunto una finale di Coppa Italia, persa poi più o meno malamente, perché comunque il risultato è rotondo, 2-0, ma comunque se l'è giocata, nel senso che comunque non è che sia stata proprio dominata dalla Lazio, anzi, ci è stata più o meno a partita e poi ha fatto un girone di ritorno clamoroso. Forse il fallimento, la stagione iniziata si può dire con un fallimento, cioè la mancata qualificazione all'Europa League, ma pure questo un fallimento, come dire, velato, nel senso che comunque aveva disputato l'Atalanta un'ottima partita, dapprima, vabbè, contro i bosniaci là a Strajevo, che quello era uno stadio fatto di carta, ed era una squadra pure molto stupida, vinsero tipo 16-0, una cosa del genere. E pure quando affrontarono, non mi ricordo chi, che comunque li eliminò, una squadra tipo svedese, non vorrei sbagliarmi. Comunque, finì 0-0 a Bergamo, anche se, non vorrei sbagliarmi, per la seconda volta, ma giocarono a Sassuolo, sempre per la questione stadio, e poi pareggiarono anche lì, uscendo ai rigori. Quindi furono anche molto sfortunati, o la vidi, le vidi quelle partite, presero pali, si mangiarono gol clamorosi. La stagione è iniziata, diciamo, in un modo in fausto, in un modo infelice, perché l'anno scorso, l'anno precedente, comunque l'Atalanta aveva meritato sul campo anche una grandiosa qualificazione all'Europa League, che già era molto prestigioso, un piazzamento già molto prestigioso per una realtà come l'Atalanta, forse un piazzamento così clamoroso nel passato recente fu solo quello di Francesco Colsassuolo, che arrivò anche egli in Europa League. Quindi già partiva da una buona realtà europea, da una buona nata europea, dove, ricordate, venne eliminata dal Borussia Dortmund, ma dopo aver fatto una partita clamorosa, una partita straordinaria, sia lì, in Germania, che appunto a Sassuolo sempre, perché in campo europeo l'Atalanta ha sempre giocato a Sassuolo. Quindi già come squadra, come dimensione europea, l'Atalanta ha una storia, diciamo così, importante, almeno se si guarda, come ho detto, al passato recente. È stata in Europa League un anno, è stata eliminata, sì, ma è stata davvero sfortunata, ragazzi, e quell'eliminazione poi l'ha portata un po' ad abbattersi, se si vuole. Infatti ricordo che l'Atalanta comunque le prime partite fece schifo, perse col Cagliari in casa, anche lì una partita, certo, non bellissima dell'Atalanta, ricordo che la vidi, però comunque segnò Barella su un calcio di punizione davvero strano, cioè era un cross e sbagliò Beriscia, perché all'epoca giocava ancora Beriscia e non ancora Collini. Successivamente vennero a Roma e figuratevi se noi non potevamo perdere i primi tre punti, o meglio i primi due punti, perché poi finì in parità. Ricordo che l'Atalanta proprio ci fece male, ma proprio boom, 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 ed erano i panchinari, cioè ricordo doppietta di Rigoni, uno che poi se n'è andato a giocare in culo al mondo, perché ha fatto due gol e basta. Castagne che ha fatto tre gol quest'anno, uno alla Roma all'andata e uno alla Roma al ritorno, infine uno alla Lazio, ma che poi ha sempre, come dire, fatto male alla Roma, perché in Lazio-Atalanta appunto l'Atalanta distaccò la Roma ulteriormente, la Roma che poi avrebbe pareggiato qualche ora dopo sul campo del Genova. Quindi la stagione dell'Atalanta, senza allungarci molto, è iniziata male. Poi pian piano, diciamo, Zapata è esploso, Gasperini si è inventato qualcosa cambiando modulo, spostando Gomez dall'esterno a trequartista, sfruttando molto la fantasia di Ilicic, proponendo un calcio che, definire totale, ok, sarebbe blasfemo nei confronti del calcio olandese degli anni famosi, insomma, del calcio di Gullit, di quell'Olanda, però comunque proponendo un ottimo calcio, un calcio sicuramente moderno, un calcio che potremmo definire anche alla Giampaolo, alla Di Francesco, cioè tutti questi allenatori che nelle realtà minori sono riusciti attraverso un buon gioco, anche Sarriano all'Empoli, o sempre di Giampaolo all'Empoli, con una difesa molto alta, basata sulla qualità, con i difensori molto alti, cioè un calcio davvero spregiudicato, è riuscita ad ottenere dei grandiosi risultati. Poi ha meritato la Champions League, perché quando una squadra ti batte in Napoli, secondo in classifica 2-1, in casa del Napoli, quando una squadra da 3-0 contro la Roma, poi in un tempo ti fa 3 gol, anche se comunque anche io saprei fare 3 gol alla Roma con Zonzi e Karsdorp nei loro rispettivi ruoli, con Karsdorp che non sa fare una diagonale, e Zonzi che l'unica cosa che conosce del pallone è la sua testa, che ha la forma del pallone e basta, però comunque merito a loro per aver ribaltato quella partita, colpa nostra quindi se noi abbiamo raggiunto l'Atalanta, ma ancora merito a loro per tutti i grandiosi risultati che hanno fatto ragazzi, cioè anche in Coppa Italia, come dicevo, hanno battuto 3-0 allo Juve, un'annata davvero davvero straordinaria, e io mi auguro per il bene di questa squadra che non faccia la stessa cosa dell'Ajax, perché certo l'Ajax ha fatto un cammino sicuramente ancora più importante, ma anche da un punto di vista storico, è una squadra importante più dell'Atalanta, sicuramente societario, però nel modus operandi possiamo dire che è abbastanza simile, è un ottimo settore giovanile, punta molto appunto sui giovani che tende a far crescere, diciamo tende a far maturare appunto in casa, si pensi allo stesso Mancini, si pensi appunto a Cristante, che però ovviamente è arrivato da noi e è diventato quasi peggio di Zonzi, quindi in un certo senso è simile all'Ajax, e spero che non faccia lo stesso errore dell'Ajax di vendere tutti i migliori giocatori, cioè se già va via Gollini, che è un ottimo prospetto secondo me, ma anche se va via Mancini, Jim City, che l'anno scorso nel Benevento non è che sembrava chissà chi, ma anche lo stesso Zapata accostato alla Roma, ma anche ad altri club, Ilicic che dicono fatta per il Napoli, o ancora Bomec, io davvero mi auguro non possa vendere questi giocatori, mi auguro per il bene dell'Atalanta, poi da tifoso della Roma non può fregarmene di meno e spero che faccia schifo, perché sono un avversario in più oltre a Juve, Napoli, Inter e Milan. Però da un punto di vista proprio sportivo, mi auguro davvero che loro possano essere calmi, non fare i nostri stessi errori, mantenere i giocatori e mantenere l'allenatore, perché Gasperini all'80% sarà l'allenatore della mia squadra, però questa è una cosa che mi puzza, cioè mi fa un po' strano, diciamo così, perché alla fine Gasperini ha fatto tanto per conquistare la Champions e alla fine venire a Roma sarebbe un ridimensionamento purtroppo, a me fa male dirlo, perché alla fine l'Atalanta, al momento, è più forte di noi, da un punto di vista societario, non da un punto di vista, come dire, economico, aziendalista, se vogliamo dire, però alla fine sarebbe davvero un ridimensionamento, dopo un'annata del genere Gasperini, che ha dato il cuore e l'anima per portare questa squadra in Champions, venire a Roma e andarti a giocare le partite contro i mariti delle prostitute russe in culo al mondo, mi sembrerebbe un po' strano, quindi io credo alla fine che Gasperini resti a Bergamo, credo che a Roma venga Giampaolo, non so cosa dire, non so cosa pensare, perché Giampaolo alla fine è un uovo di Francesco, ragazzi, parliamoci seriamente, sinceramente, indipendentemente da questo, però, come dicevo, mi auguro per l'appunto che resti, cioè mi auguro, credo che alla fine Gasperini resti, e soprattutto che l'Atalanta, come ho detto, non faccia l'errore di vendere tutti i migliori giocatori, perché con questa squadra che ha, con qualche buon innesto, può davvero, secondo me, addirittura arrivare, dove forse non è mai arrivata, cioè agli ottavi di Champions, non so se gli capita un buon girono, io non so adesso in che fascia capiterà, ma anche in quarta fascia, se sei fortunato, io credo che tu possa, possa ambire, la squadra possa ambire, in effetti, a superarli, i gironi, indipendentemente appunto dalla fascia, perché abbiamo visto la Roma, che era alla fine, in terza fascia, due anni fa, e capitò comunque con Chelsea, Atletico Madrid, la stessa cosa, la stessa cosa in Napoli, che in terza fascia, è capitato con Barcelli, con PSG, e Liverpool, quando invece, gli poteva capitare un girone molto più facile, quindi, io credo che con un sorteggio fortunato, questa Atalanta, possa davvero anche centrare, gli ottavi, e chissà poi, magari, che cammino intraprendere, ma anche il terzo posto, al girone, gli garantirebbe comunque l'Europa League, una competizione dove, secondo me, l'Atalanta può dire la sua, quindi, io credo che questa, questa stagione, debba essere il giusto presupposto, per poi gettare le basi, che facciano finalmente, che proiettino finalmente, questa squadra, in una dimensione totalmente nuova, e che non sia, quest'anno, il solito anno, comunque, alla Torino, o alla Fiorentina, che dopo aver raggiunto, degli ottimi, diciamo, dei piazzamenti europei, aver fatto anche bella figura, ricordo il Torino, in Europa League, diciamo, con Ventura, poi, ha fatto schifo successivamente, mi auguro, questo non capiti all'Atalanta, ripeto, sono sì romanista, però, questa realtà, mi ha preso, ma credo un po' a tutti voi, in modo particolare, perché hanno, davvero, in un paio d'anni, raggiunto, non dico l'inimmaginabile, perché comunque, alla fine non hanno vinto nulla, però, hanno raggiunto davvero, dei traguardi importanti, poi, domani si saprà, domani, in questi giorni, del futuro allenatore della Roma, io, visti vari nomi, credo che Gasperini sia, il più quotato, e il migliore, al momento, però, chi vivrà, vedrà, come dico spesso, perché sono tante componenti, da dover considerare, arrivederci, arrivederci, che erano, vedo, vedo. Grazie.